Allora, per quanto riguarda Pogba, no, non ci siamo sentiti perché tra l'altro lui è stato in America fino al giorno prima di andare a Manchester. Avevamo un ottimo rapporto come lo ho con tutti i giocatori, poi lui magari ci è rimasto male perché ha perso le sfide con i piedi e con le mani, però questo sarà stato un motivo per cui è andato via anche dalla Juventus, anche per questo. Per quanto riguarda De Boer, l'Inter, la Roma e Napoli sono le antagoniste della Juventus. Grazie a tutti.